Wow, bello! Che bella festa! Cos'è questo rumore? Non riesco a dormire! Fammi girare! Teresa, stai bene? Mi sono stufata! Ve la faccio vedere io! Lo senti? Qualcuno sta bussando! Sembra che l'abbiano spenta! Non c'è nessuno qui! Ancora? Qualcuno sta bussando! Aprite! Spegni la musica! Chi c'è? La tua vicina del piano di sotto! Invitala a entrare! Shhh! Che succede? No! Spegni la musica! Devo svegliarmi presto domani mattina! Ancora? Ancora? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ciao, Ken. Sono in ritardo. È sabato? È il giorno libero? Ah, 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 ok. Allora dormo ancora un po'. Fantastico! Dai, dai! Oh, 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 oh. Cos'è? Ora basta! Oh, 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 oh. Ho perso la pazienza. Oh, oh, oh. Perché cos'era quello? Voglio dormire. Perché non vai a fare la colazione? Oh, oh. Che colazione! È ora di pranzo! Oh, molto meglio! Grande! È vuoto! Oh, cibo in scatola! Oh, questo no! Ci siamo! Spero che a Barbie piacciano i fagioli! Oh, che schifo! Ma come si fa a mangiarli? Oh, questo film è il migliore! Bro! Oh, cos'è questo odore? Puoi tossire più piano? Non riesco a sentire niente! Cosa sta succedendo? Oh, cielo! I vicini hanno bruciato di nuovo qualcosa! Ah! È il fuoco! Mi hai sentita? Non restare l'isdraiato! Prendi l'estintore! Oh, sì, sì! Vado a prenderlo! Oh, no! L'intero appartamento andrà a fuoco! Oh, dov'è? Dove l'ha messo Barbie? Niente! Trovato! Sto arrivando! Oh, l'ho spento! Tutto questo a causa del tuo stupido computer! Mi chiedo cosa stavi cucinando! Eh? Fagioli? Sì, volevo sorprenderti! Ma lo sai che io odio i fagioli! Ah, che colazione! Barbie, non essere arrabbiata! Mi hai rovinato la giornata! Ordinerò del cibo! Oh, cielo, il mio computer è rotto! Uova! Wurstel! Latte! Pane! Pasta! Consegna! Sarà qui tra un'ora! Ah, finalmente hai fatto qualcosa di utile! Consegna spesa! Ottimo! Quanto? 180 soldi rosa! Ecco ne duecento! Tieni il resto! Grazie! Molto meglio! Ora abbiamo un sacco di cibo! Hai preso solo un Wurstel! Oh, pensavo non ti piacessero i Wurstel! Bene! Tu mangi il tuo Wurstel! Io vado al bar! Oh, faccio del mio meglio! Ma non è mai abbastanza! Ciao ciao! Ciao!